let's go bitches benvenuti a un'altra puntata di marksman god per chi non lo sapesse ero molto bravo ad usare i fucili a colpo singolo come il fall su black ops 2 potete trovare delle scream o delle partite in cui uso il fall per capire come lo usavo tra l'altro ho fatto anche un video utilizzando la claw cam proprio per far vedere come lo uso comunque oltre a questo vi voglio parlare del gameplay praticamente sto usando un mk14 che secondo me è uno dei dsr più scarsi insieme all's view e praticamente uso un mirino red dot con il soppressore di fiamma perché volevo vedere bene dove sparavo comunque utilizzo prontezza estrazione rapida predatore concentrazione e silenzio di tomba comunque questa è una classe che ho utilizzato con supporto perché stavo giocando con degli amici come potete vedere in gruppo per cercare di rancare velocemente per chi non lo sapesse ho spiegato in un mio video come poter rancare più velocemente però è una cosa che si fa solitamente in dominio infatti come vedrete a fine partita non riceverò un bonus partita molto alto comunque parliamo cioè parliamo di quelli che sono i fucili dsr i marksman rifle praticamente ogni fucile dsr ogni fucile a colpo singolo ha una certa cadenza di fuoco ogni fucile è diverso dall'altro quindi la cadenza di fuoco è diversa quando voi premete il grilletto per sparare un colpo per riuscire a sparare velocemente dovrete premerlo con una certa cadenza una cadenza troppo elevata cioè premere il grilletto troppo velocemente più di quanto di quanti di quant'è la cadenza di fuoco vi farà bloccare l'arma non vi farà sparare velocemente come avviare a questo dovrete abituarvi piano piano a concatenare quelli che sono i colpi quindi dovrete riuscire ad avere un certo ritmo con il grilletto come fare beh però fatelo in privata se non volete rovinarvi il radio altre cose comunque i fucili dsr sono veramente un'arma molto potente da utilizzare in call of duty ghost ma come in tutti gli altri call of duty perché se usate la mk 14 su mv3 era sgravato uguale o anche il fall su black ops 2 sempre sgravatissimo quindi i fucili a colpo singolo su call of duty sono sempre stati alcuni dei fucili più forti proprio in generale quindi sono anche alcuni dei più difficili perché oltre che avere un certo ritmo con con il grilletto quindi con il radio di fuoco dell'arma bisogna neanche essere molto precisi perché a volte ci si concentra di più sullo sparare velocemente che sul mirare quindi bisogna cercare di avere un po di multitasking e di fare entrambe le cose comunque il mio consiglio quando usate un fucile dsr è quello di sfruttare il suo alto danno e la sua grande precisione cercando di mandare a segno proprio i primi due colpi o proprio i primi colpi che potete in modo subito da stendere l'avversario a terra e di avere la possibilità di fare altre kill su altri avversari come questo beh principalmente è un fatto di precisione ma comunque potrete sfruttare anche la distanza a cui questi fucili possono uccidere perché praticamente hanno una grandissima portata un'elevatissima portata un'elevatissima portata vuol dire che anche a distanze maggiori fanno un elevato danno quindi potete sfruttare anche il fatto di avere una grande portata per uccidere i nemici a grande distanza cosa che invece gli AR cioè i fucili d'assalto hanno di meno gli SMG ancora di più quindi questi fucili sono veramente un must sono diciamo una una sorta di combinazione di mix tra quelli che sono dei fucili da cecchino automatici e un fucile d'assalto non sono proprio il massimo della comodità per essere usati ma piano piano con un po' di allenamento si può fare tutto tra l'altro farò una serie in questa questa settimana proprio una puntata dedicata ai fucili a colpo singolo in cui vi farò vedere proprio attraverso una claw cam una cam sul joystick come riuscire a sparare più velocemente con tutte le armi a colpo singolo parlo anche delle pistole perché tutte queste cose che vi sto dicendo del fatto del radio di fuoco eccetera eccetera valgono anche per le pistole quindi cercherò di fare una serie che tratti c'è una serie una puntata della serie power personal trainer che tratti proprio di questo spero comunque che vi piaccia questo gameplay non è una cam ricercata anzi stiamo giocando giusto per fare qualcosa io stavo provando la mk14 che tra l'altro è un'arma che a me fa veramente schifo c'è uno dei più brutti fucili dsr che ho usato insieme all's view quindi quindi ragazzi c'è stato veramente non so nemmeno io come l'ho fatta sinceramente questa cam veramente avevo forse gli avversari handicappati non so comunque mi prendo questi ultimi minuti finali del video per ringraziare tutti sto vedendo che c'è un incremento proprio esponenziale delle views dei mi piace dei commenti sono contentissimo di questo perché vuol dire che molti stanno apprezzando i miei video cercherò di portarvi altri video di ghost come ho già detto molto più elaborati molte più specifiche tecniche su code molti più consigli cioè vi spiegherò anche qualche altro segreto che magari non ho spiegato in black ops 2 e ora lo affronterò qui su ghost e riproporrò sempre quello che è stato power personal trainer cercando di riadattarlo a ghost detto questo penso che questa settimana o la prossima settimana comincerò a trattare un altro gioco o forse 2 o forse 3 anche cioè battlefield 4 che secondo me è un gioco veramente divertente su one farò forse qualche video di fifa se mi capita sto cercando di organizzare una sfida con velox quindi appena si può cercheremo di farla e comunque vi metterò alcune delle clip fatte giocando a dead racing 3 con un mio amico odio che secondo me sono alcune delle clip più divertenti veramente sono cose successe a caso mentre giocavamo non so se avete visto il video che ho fatto su dead racing 3 ma secondo me è un gioco veramente divertente se giocato in coop quindi vi consiglio di vedere se non l'avete visto ci sentiamo al prossimo video fatemi sapere qui con un commento cosa ve ne pare di questo piccolo commentary e al prossimo video bella becceeees non ne vedo uno ecco mi sparo da dietro pezzo di merda non farò mai la cam arrivo ho fatto la cam mi ha ucciso mentre moriva perché sei in una serie di 20 uccisioni bug guardalo 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 Grazie.